Arezzo diventerà capitale europea dei matrimoni. Grazie ad un accordo siglato tra Fondazione Arezzo Intour ed Exito Media Concept Private, la società indiana che crea rete e costruisce relazioni nell'industria del wedding, la nostra città sarà la sede europea della prossima Exotic Wedding Planning Conference, esclusivo appuntamento che dal 2 al 4 giugno 2019 riunirà i più quotati wedding planner del mondo. Arriveranno da 50 paesi diversi, dopo Dubai, Goa e Barcellona dove sono svolte le ultime edizioni, sarà Arezzo e la Toscana, la sede europea che accoglierà la conferenza. L'altri giorni sarà un'occasione esclusiva per raccontare l'unicità della terra toscana e dello stile italiano a coloro che progettano il giorno più bello. Il 36% degli stranieri che si sposa in Italia lo fa infatti in Toscana. Sarà anche l'occasione per presentare Arezzo Wedding, il ramo della Fondazione Arezzo Intour, che si occuperà di riunire e proporre i servizi di tutti coloro che operano in questo settore. Una business unit, ha detto l'assessore Marcello Comanducci, che si occuperà di coordinare i professionisti del wedding per entrare nel mercato in modo professionale e ben strutturato. Con soddisfazione, conclude Comanducci, possiamo affermare che di fatto questo è uno dei primi grandi obiettivi raggiunti dalla Fondazione Arezzo Intour.